Ciao a tutti, oggi prepareremo i cornetti salati veloci ricotte e spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Ingredienti sono pasta sfoglia, ricotta, spinaci lessati e sale, pepe, noce moscata, parmigiano grattugiato, uovo e latte e semi di sesamo. Andiamo via alla ricetta. Mettiamo da parte momentaneamente la pasta sfoglia, mettere nel boccale gli spinaci e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la ricotta, il parmigiano, il pepe, il sale e la noce moscata. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3, trasferire in una ciotola, dividere la pasta sfoglia in 12 parti, mettere una parte del ripieno alla base della pasta sfoglia ed arrotolare formando i cornetti e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. spennellare la superficie col forno d'uovo e latte, spolverizzare con i semi di sesamo. cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti circa. i cornetti sono cotti lasciare intiepidire prima di servire. cornetti salati veloci ricotta e spinaci grazie e alla prossima ricetta cornetti salati veloci ricotta e spinaci grazie a tutti i nostri ricotta.